Negli ultimi giorni, gli spettatori del Grande Fratello hanno notato strani atteggiamenti tra due geffini, Lorenzo Spolverato ed Elena Prestes. Sembra che i due condividano un segreto che potrebbe presto venire a galla, gettando scompiglio nella casa più spiata d'Italia. Ma di cosa si tratta esattamente? E quali provvedimenti potrebbero prendere gli autori del programma? Secondo alcune indiscrezioni, Lorenzo ed Elena si conoscevano già prima di entrare nella casa. Pare che abbiano avuto un breve flirt in passato, nato durante un evento di moda. Tuttavia, questa relazione sarebbe durata solo poche settimane. A causa di differenze personali, Elena avrebbe preferito concentrarsi sulla sua carriera. A confermare ulteriormente questa tesi ci ha pensato Biagio Danelli, noto esperto di gossip ed ex concorrente del reality, che ha dichiarato «sì, hanno avuto una liaison, c'è stato un inciucio». E io ho visionato anche gli scatti in questione. Nonostante ciò, il fatto che entrambi mantengano il silenzio sta insospettendo sia i coinquilini che il pubblico. Lorenzo, in particolare, avrebbe chiesto ad alcuni concorrenti di non parlare della questione. Ma questo tentativo di insabbiare tutto ha ottenuto l'effetto opposto. Amanda Lecciso e Tommaso Franchi, ad esempio, hanno confermato di essere a conoscenza del passato tra i due, alimentando ulteriormente i sospetti. Gli autori del Grande Fratello sembrano intenzionati a sfruttare questa vicenda per creare nuove dinamiche all'interno della casa. Dejanira Marzano ha annunciato che un intervento sulla questione è imminente, dichiarando «occhi puntati sul Grande Fratello perché ci sono rivelazioni in arrivo che potrebbero stravolgere tutto». Gli autori stanno solo cercando il momento giusto per svelare tutto e fare il loro intervento. Se le voci fossero confermate, il programma potrebbe decidere di organizzare un confronto diretto tra Elena e Lorenzo in diretta, mettendo entrambi di fronte alle proprie responsabilità. Non è escluso che il Grande Fratello possa prendere provvedimenti disciplinari qualora emergesse che entrambi hanno deliberatamente mentito o nascosto informazioni rilevanti alla produzione. In attesa di ulteriori sviluppi, la curiosità degli spettatori cresce. Cosa nascondono davvero Elena e Lorenzo?